Ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto io sono Emiliano e anche oggi torno al nostro consueto update quotidiano con le notizie di mercato con quello che è successo la notte spero abbiate passato un ottimo ferragosto perché ne sono successe di tutti i colori in questi paio di giorni in cui ci siamo un po' fermati con i contenuti e abbiamo dato i contenuti un po' diversi perché ci sono delle pressioni sul mercato tradizionale che potrebbero avere conseguenze su bitcoin abbiamo visto il primo bitcoin etf spot lanciato in Europa che non ha avuto particolari conseguenze sui mercati lo approfondiremo però tra poco in più il lancio l'airdrop di 6 insomma un bel po' di cose di cui parlare quindi rimanete con me fino alla fine perché sono tutte cose estremamente importanti a tenere bene a mente se vi fa piacere ricevere questi contenuti fa piacere riceverli in qualsiasi periodo dell'anno quando c'è necessità vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace ad iscrivervi al canale con clic sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati insomma lo sapete quanto è importante in questa fase dato ovviamente un'occhiata anche ai link che trovate con sotto in descrizione che sono le promo esclusive per il canale e appunto aiutano il canale anche a sostenersi detto ciò non perdiamo altro tempo e partiamo partiamo dalla prima news quella che riguarda un po' la scommessa l'ultima scommessa di Michael Burry che praticamente è sempre stato abbastanza bearish è un trader insomma abbastanza importante e famoso per quello che riguarda Wall Street è sempre stato abbastanza famoso per i suoi short ok cioè lui molto spesso quelle che sono le sue analisi sono di cercare i top di mercato ok andare a cercare di shortarli ma in realtà a parte il 2005 che ha previsto un po' la crisi dei mutui subprime eccetera eccetera le sue chiamate successive non sono mai state così accurate infatti qui in questo tweet riporta un po' tutto quello che è accaduto cioè ha chiamato dei top nel dicembre 2015 e poi ci sono stati negli successivi 12 mesi un più 11% di SPX nel 2017 un più 19 sempre guardano sempre nell'anno in avanti insomma da quando è stato chiamato questo top in questo caso settembre 2019 c'è stato un altro più 15 marzo 2020 un più 72 febbraio 2021 un più 16 settembre 2022 un più 21 gennaio 2023 un più 17 adesso ha chiamato quest'ultimo quest'ultimo short noi allora la sua scommessa è superiore a un billion ma in realtà sono in opzioni put quindi ha pagato un premium che è più basso adesso non ricordo bene parliamo circa 50 milioni di dollari che però ripeto sulle cifre che muovono questi attori non è tanto possono essere anche delle opzioni di copertura quindi non per forza un'esposizione solamente al ribasso ma magari per proteggere delle posizioni long aperte questo noi non lo sappiamo però ha portato un po' di un po' di diciamo sorpresa nel mercato perché appunto si tratta comunque di un fill importante di posizioni put nei confronti di SPY e di QQQ vedremo vedremo come andrà in ogni caso questa è l'accuratezza delle ultime previsioni di Michael Burry e di conseguenza ripeto fare trading su questo mi sembra un po' ecco un po' gambling ok cercate sempre di avere le analisi che sono sostenute sulla base di dati più solidi perché fare gli all-in sulla base di questo o vendere tutto sulla base di questo insomma dipende diventa sempre abbastanza pericoloso ecco però ci stava secondo me a menzionarlo così come va menzionata la SEC che ha comunicato che tutte le decisioni sulle approvazioni degli ETF saranno spostate al 2024 quindi ai primi mesi 2024 un po' forse sarà una situazione di astronomo non so come definirla dove si allineano un po' i pianeti sulla base dell'Halving eccetera eccetera staremo a vedere anche questa cosa qua per il momento lo riporta anche Twitter non ci sono particolari fonti che la vanno a certificare ma sono dei rumors che appunto corrono all'interno del settore così come però corre all'interno del settore l'ETF spot che è stato approvato in Europa il primo ETF spot quindi capite che la mia idea è sempre quella che non è tanto se e mai quando perché poi quando altri mercati molto comunque correlati vicini anche all'America da un punto di vista di collaborazioni vanno in questa direzione a mio parere insomma anche gli Stati Uniti non vorranno perdere il trend sappiamo già tutte le polemiche che ci sono state tra appunto la SEC e il congresso eccetera eccetera su questa negazione nei confronti delle cripto vedremo perché appunto in Europa è stato lanciato è questo qua si chiama Jacob Investment Funds che praticamente è la replica fisica di Bitcoin lo vedete è stato non ci sono particolari dati proprio perché è stato lanciato ieri quindi 15-8-2023 e appunto all'interno è possibile appunto acquistare poi del sottostante reale che viene custodito personalmente non lo vedo ancora estremamente liquido quindi non ve lo consiglio insomma di andare all in su questi su questi su questi prodotti per il momento almeno che non aumenti insomma un po' la base il volume di questi prodotti in ogni caso è scambiato su Euronext di Amsterdam quindi c'è la borsa Amsterdam staremo a vedere insomma però sicuramente è un'ottima notizia perché porta altri prodotti probabilmente ad arrivare in maniera più graduale e anche su altri stati come esempio gli Stati Uniti prima di passare ai gainers e ai losers vi ricordo su Bitget la competition che sta per partire allora a parte Bitget che ha lanciato anche lei il listing di 6 che poi andiamo a vedere magari su CoinMarketCap quindi lo potete scambiare anche su Bitget ci sarà la competizione KCG 2023 che praticamente mette in paglio 2.650.000 dollari di premi cumulati e come si divide? Si divide in spot trading, futures copy trading, demo trading e futures trading come funziona? Funziona che avete delle rewards che vengono splittate su tutte le quali parti di competizione 50.000 dollari sullo spot, 20.000 sul demo, 80.000 sul copy e 2.500.000 sul futures trading e ci sono anche dei premi come un cyber quad, un elicottero di Bitget, un iPhone 15 quindi siamo già in avanti col tempo ma appunto parte la competizione dello spot tra un giorno e 16 ore potete registrarvi attraverso il rough link che trovate qua sotto in descrizione che vi dà appunto tutti gli sconti fee quindi lo fate con anche scontistiche. Qui ci sono tutte le date, le trovate nella pagina poi KCG con le date di registrazione e di competizione che andranno a susseguirsi in questo periodo di tempo quindi dategli un'occhiata, a mio parere è estremamente interessante soprattutto se fate trading andiamo invece a vedere quelli che sono i gainers delle 24 ore e troviamo appunto 6 che fa un più 3.226%, questo perché chiaramente aveva un prezzo di listing XDC che aveva un più 4, Bono un più 2, Gemini un più 1 giusto per vedere 6, come vi dicevo listato su Bitget anche praticamente sta continuando a crescere attenzione, attenzione perché comunque è estremamente esteso già da ieri sui minimi siamo quasi a fare un per 2, ok? da 16 centesimi a un 30 centesimi c'è molta speculazione sull'Airdrop Airdrop che sembrerebbe essere allocato principalmente per dei detentori di altre chain e ha creato un po' di misunderstanding tra la community di 6 staremo a vedere in ogni caso, attenzione perché le crescite paraboliche sui lanci ok? quindi non ci sono particolari distribuzioni ma ci sono crescite estremamente rapide sono sempre da tenere d'occhio, ok? prima di andare all in market cap diluita completamente di 2 miliardi di dollari e 6 e market cap generale sul circulating supply è di 484 milioni di dollari quindi non è piccolo, ok? non è assolutamente piccolo e già si posiziona in top 100 quindi in posizione 79 però attenzione sempre alla market cap completamente diluita questo vuol dire che non potrà continuare a crescere può continuare a crescere però fate estrema attenzione un po' anche alla questione Airdrop che verrà chiarita nelle prossime ore andiamo a vedere invece gradualmente quelli che sono Bitcoin Bitcoin estremamente flat ha avuto un piccolo dump insomma che ha riportato il prezzo nella zona dei 29 mila dollari che per il momento è mantenuta abbastanza bene anche se da notare l'open interest che tende comunque a crescere nonostante ci sia stato questa diminuzione del prezzo l'open interest continua a crescere c'è stata una grande liquidazione di posizioni long appunto nella giornata di ieri verso il 19 appunto per questo sweep che poi è stato recuperato ma lo vedete anche su open interest ha creato solo un piccolo smottamento per poi andare in una fase di recupero quindi Bitcoin estremamente come ho già detto flat un po' un po' morto un po' le attenzioni sono su queste situazioni di Alcoin come 6 e come appunto i nuovi lanci che stanno andando ad essere fatti e quindi meritano un po' più di attenzione un po' il drenaggio tra le market cap delle Alcoin tradizionali che si spostano su queste qua un pochino innovative di nuovi lanci che piacciono sempre anche se in realtà vediamo una dominance che appunto è forte quindi è solamente uno spostamento di market cap tra Alcoin in ogni caso staremo a vedere ci aggiorneremo prestissimo con un prossimo video dove andiamo ad approfondire meglio il tutto quindi rimanete con me se questo video vi ha fatto piacere vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace iscrivetevi al canale con un clic sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati come vi dicevo se sarà necessità arriveremo con un altro video in giornata altrimenti ci vediamo domani appunto col prossimo update ancora una volta una buona giornata a tutti ciao ragazzi